Lei avrebbe potuto sviluppare un'invidia, un odio nei confronti di sua madre, invece no, invece ci vive in simbiosi. Troppo? C'è qualcosa di morboso sinceramente o no? Guarda, non lo so perché da bambina ero forse un po' più morbosa, l'amavo a livelli incredibili. Poi sono tornata e poi piano piano ho visto tante cose succedere intorno a mamma, tante persone sfruttarla e non potevo tanto dire la mia e poi piano piano invece sono riuscita ad avvicinarmi e a prendere in mano tanto del suo lavoro, tante persone che l'aiutavano, ho preso io il loro ruolo e oggi abbiamo una simbiosi di sorelle, ci vogliamo un bene incredibile, io mi diverto, l'amo, se è morboso non lo so. Ha più bisogno lei di sua madre o viceversa? Non lo so, penso che ormai ci compensiamo su tante cose, poi viviamo insieme. Cioè c'è un'indipendenza? Allora c'è stata per un po' e anche durante la pandemia, perché siamo state proprio attaccate come la colla e poi perché io prima del mio compagno di adesso la seguivo proprio in ogni lavoro. Lei è cresciuta senza il suo padre biologico e per un periodo ha pensato che fosse un produttore spagnolo, poi avete fatto il test del DNA, credo che l'abbia chiesto lui, e avete scoperto, questo insomma l'ha raccontato lei a Paola Perego, avete scoperto che non era lui suo padre. Sì. E lei ha detto, io lo vedevo una volta ogni tanto, ma quando lo toccavo sentivo che era mio papà, il sangue del sangue, uno si convince di cose e quando ho saputo che lui non era il mio papà ho pensato, ma chi sono io? Eh, che domandone. Allora è stato un momento abbastanza strano e questa cosa proprio, io avevo questo papà, ho questo papà adottivo che è il papà dei miei fratelli, che mi ha cresciuto per me è papà. Sì. Però quando andavo lì avevo questa sensazione di pelle, di dire, cioè io, questa persona è mio padre. Quando ho scoperto che non era vero, il non so più chi sono era più che noi ci facciamo delle idee, che poi in realtà è tutto qua, cioè lui non era mio padre, questo toccarsi non esisteva. Ma il legame è rimasto con lui? Sì, è rimasto, ci sentiamo ancora. Ah. Sì. Com'è non sapere chi è suo papà? Per tanti anni pensavo fosse averne due, poi mi sono trovata senza, però è strano, è come non sapere da dove vengono le tue origini da una parte. Poi ho capito che comunque mia madre non gli va di parlarne e quindi lo rispetto molto questo e tanto ormai il mio papà ce l'ho, cioè quello che mi ha cresciuto è Federico e quindi per me lui...